E' andato agli statunitensi Roth Shapley il premio Nobel per l'economia 2012. I due economisti dell'Università di Harvard, il primo, e dell'Università di California, il secondo, hanno ricevuto il riconoscimento per le loro ricerche sulla teoria dei giochi applicata al funzionamento dei mercati. Il premio di quest'anno è all'ingegneria economica che ha mostrato come definire alcuni mercati in modo che possano funzionare bene. Il contesto è una situazione in cui lo scopo è quello di accoppiare due parti distinte, come ad esempio medici e malati in un ospedale o studenti e insegnanti in una scuola. I lavori dei due ricercatori puntano a stabilire la migliore maniera di associare tra loro diversi attori economici e, nello specifico, analizzare la modalità con cui si determina l'incontro tra domanda e offerta.